foodglory.com, trovate il link nella descrizione fateci un salto e buona visione Ciao a tutti ragazzi, ben ritornati nel vostro show che ora siamo tornati signori di nuovo con il Reultedificio One, siamo qua ragazzi, allora io ragazzi ve lo dico subito, grazie perché finalmente mi avete dato sta soddisfazione di andare a prendere sto benedetto, sala in forma perché ragazzi nell'ultimo video siamo arrivati e abbiamo strasuperato i 20.000 like richiesti, siamo arrivati di subito 23.000 like o cose del genere e finalmente ci siamo presi, sala in forma, mi sono riqualificato di nuovo il Food Champions, mentre alcuni di voi giustamente mi hanno detto guarda giochi che se arrivi in oro 3 non c'è bisogno che ti riqualifichi per la prossima stagione, ma io non lo sapevo ragazzi vi dico la verità, non lo sapevo e mi sono rifatto un culo così per riqualificarmi, comunque ragazzi questa partita è decisiva proprio perché ci rimane solo questa partita da giocare e se la vinciamo, praticamente vediamo promosso in divisione 3, speriamo bene ragazzi perché ultimamente stiamo andando malino e vediamo qua la nostra squadra aggiornata con il nostro Sala 84 AD ragazzi, adesso possiamo andare a spaccare ancora di più il culetto perché Sala non si tocca ragazzi Sala non si tocca, ma no perché dice da Roma perché ragazzi è proprio forte, ci serve uno che corre così tanto lì davanti e chi mi aiuta Sala, Sala quindi ragazzi, mi raccomando mi invito a lasciare un bel like per questo video e ovviamente datemi altri consigli per andare a cambiare qualche altro giocatore che non so, possiamo mettere qualche altro in forma, qualche altra cosa non lo so, chi possiamo mettere me lo dovete far sapere assolutamente voi diamo subito il nostro primo avversario che squadra ci pone qui davanti a noi ragazzuoli un'ottima Barclays con Boni con Ramira davanti che comunque è molto buono ragazzi, abbiamo anche un Demsey beh la squadra è molto buona ragazzi quindi facciamo attenzione non ha l'allenatore perché è il classico problema degli allenatori che ogni tanto devono andare a cagare quindi delle squadre non ci sono ma questi sono dettagli vai, parte subito lui all'arrembaggio signori questa partita non è che è importante di più raga sta partita è decisiva proprio sta partita è tipo una finale della Coppa del Mondo eccolo Salah appena è arrivato ragazzi appena è arrivato fresco fresco questa giornata madonna mia Salah madonna mia Salah l'ha dal centro per insegne di testa capirei tipo se è stato ammesso qua non cambia niente ecco il Rasha ancora Rasha ancora Rasha signori Air Ninja c'è prova dalla distanza andiamo a batterci questo calcio d'angolo lo abbattiamo strano come ci piace a noi strano eccolo qui ragazzi il golletto che ci piace a noi quello un po' così schwe schwe glue 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 proprio finalmente Di Bala va a purgare 1-0 per noi ragazzuoli questo gol è importantissimo allora un calcio di munizione che non ci voleva vi dico la verità anche perché madonna mia la traversa bello grandissimo per Salah ancora Salino dai Salino dai Salino non ti fa prendere dalle emozioni Salah non ti fa prendere dalle emozioni Salah ti fai prendere troppo dalle emozioni e si sputtana tutto ancora la Rasha il ninja il ninja perché ste cose ragazzi mamma mia Salah e c'è il gol Salah signori oh guarda che se fa qui proprio sblem comunque tanto per cambiare pali attraversi a go go signori bello Salino olè in segno a giro signori continua l'assedio l'assedio di giocherigno e va a segnare anche lui il nano malefico 3 a 0 champagne ancora in segne ancora in segne ancora in segne mamma mia sentirevo subito perché stavo volevo far il tiragiro stavo facendo un altro tiragiro ma sì finché la spazi così per me c'è problema guarda olè baraccoglie le cipolle dai perché la di passata sta là che è bello di bala dai di bala bello di zio dai di bala bello di zio di bala signori non sbaglia davanti la porta 4 a 0 e poker di giocherigno signore che non sbaglia minimamente un tiro 4 a 0 mi piace questo però che c'è ancora la voglia di giocare mi piace assai grazie tutto anticipato per insigne il nano il nano signori ancora il nano ancora il nano ancora no c'è arrivato na in gol del piero del piero 5 a 0 ragazzi volevo fare un golletto di lì invece mi aveva fatto normale del piero però è sempre un golletto ragazzuoli quasi addobbato questo finalmente se la rage quitta ragazzi mamma mia far quittare un avversario in finale questa era una finale veramente che decide la promozione mamma mia ragazzi abbiamo fatto abbiamo recuperato questa divisione 4 veramente con la cacca al culetto proprio ragazzi perché comunque era l'ultima partita dobbiamo per forza vincela ma qui non è che l'abbiamo vinta qui l'abbiamo stravinta proprio un 5 a 0 ah che spettacolo ben fatto hai meritato la promozione grazie signori siamo ufficialmente in divisione 3 madonna mia ragazzuoli come stiamo volando quest'anno stiamo già in divisione 3 ci siamo ragazzi il primo avversario di questa divisione 3 e da qua ragazzuoli inizia veramente già in divisione 4 ragazzi abbiamo avuto qualche difficoltà ma qui signori in divisione 3 sapete tutti quello che si può passare quindi questo però che c'ha Zaza ragazzi putacaso dovessi stasciare il rigore sto tranquillo che Zaza non lo segna quindi mamma mia ragazzi divisione 3 vediamo un po' adesso la prima partita come si svolgerà si parte si parte signori subito con Del Piero parte Del Piero a 300 e si fanno lo sgambetto insieme a Di Balla vabbè bravi mamma donna mia Di Balla per Salah Di Balla per Salah ci prova dai insigne porca miseria regalato di raccia costarà troppo egoismo volevo fare subito il gol sicuro invece non l'ho fatto hai visto azzome pe come l'angolata l'immortaggio va bene ci sta signori 1 a 0 nessun problema sapete che qua giocheri gno mamma mia c'è una facoltà di recupero questo ci sta buggerà proprio meno male grande intervento signori qua vi ho detto che si è fatto la situation la situation piammogli questo pallone su forse è coraggio che ci sta smarca ci sta a fare in coglioni dai donna ruma vedi che devi fare se non metto buffone vai Salah dai Salah e te ne sei annato accelera sto cazzo del scarpino che te ritrovi no troppo da sto portiere però mi è piaciuta Salah mi è piaciuta che cazzo ha fatto questo ma stava quasi riprendendo donna ruma ma che stava facendo 2 a 0 signori vi ho detto che questa è tosta bella bella partita però raga 2 a 0 si può ancora recuperare a meno che non ci fanno anti 72 golle ma 2 a 0 si può recuperare tranquillamente e dai non ci credo non mi ha tirato del Piero non mi ha tirato del Piero su e oh e non ci credo non ci credo del Piero si è emozionato del Piero che stavo in divisione di re ma non si è emozionato di bala mamma mia non si è emozionato di bala signori guardalo Salah manneccia i sandali di Salah proprio prendi Salah tutto da solo signori va a sbarca tira e segna Salino Saletto gli ha fatto il golletto ragazzi dobbiamo assolutamente recuperare questa partita ve l'ho detto tempo al tempo bello lo vede Salah del Piero e che non lo vede ma lo vede che si lo vede che si e che non si vede oh lagga lagga mortasci di me il popolo fa un'altra cosa io invece mi sono tolosa costretto raga sono stato costretto a fare la cosa lì va insigne dai insigne mamma mia ragazzi ernano malefico ma recuperare ve l'ho detto che giocherino ragazzi non è da sottovalzare ah ho fatto pure la rima ve l'aspettavate un'altra rima e ore durerebbe blu va così rega non so manco che cazzo di due pari signori sarà insigne mamma mia questo qua è un rotto di giovane iniziato epico finito epico malvagiamente epico ole se ne va se ne va se ne va e arriva proprio lui salà sono diventato poputo insieme signori come ripalta sta partita salino saletto signori mamma mia un altro colletto di salà e non finisce qui da 2 a 0 ragazzi da 2 fotodissimi a 0 per quello che vi dico ragà non bisogna mai smetterci dei credi delle partite ragazzi questo sta inizio a fare falli ve lo dico dai nano dai nano dai nano dai nano del piero gol gol mamma mia ragazzi di 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 look proprio di no look signori mamma mia giocherino ragazzi il video più epico della storia di fifa mai fatto sul mio canalus assolutamente assolutamond mamma mia ti sparo con del piero sta sagetta che te smole con le mutande proprio mamma mia ragazzi madonna mia ragazzi mi sto senti male bravo spazza 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 camin mamma mia giocherino te pali collin olè 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 mamma mia ragazzi ma che partita hai fatto ma che partita ho fatto ragazzi porco giuda vuoi ho detto 22 a 0 giocherino non perde maronna mi tu carmene che partita mamma mia ragazzi scheppu volevo mille applausi per me ragazzi mamma mia giocherino sotto di due gol fino al quarantesimo va a rimontare una partita incredibile addirittura a stravincerla 4 a 2 ragazzi madonna mia se sto chiuso a raggiungere i 30 mila like ma in cazzo come una iena madonna mia ragazzi ma che cazzo le partite ha fatto giocherino qua sotto hashtag the king of the road di johan hashtag mai arrendersi hashtag non lo so hashtag non lo so ragazzi mamma mia che spettacolo signori veramente un video straepicissimo a livelli proprio disumani siamo in divisione 3 e abbiamo iniziato con un botto incredibile ragazzi io ovviamente spero che questo video vi sia piaciuto perché sarà qualcosa veramente di surclassato proprio cioè qualcosa di sur qualcosa di irreale cioè madonna mia che rimonte che rimonte ragà veramente un video straepicissimo di fifa signori vi lascia un bel posto in su commentate condividete mi raccomando passate la pagina facebook instagram shop online tutti i social li trovate qua sotto nella descrizione ci vediamo signori domani con gli appuntamenti di 14 19 non mancati mi raccomando al prossimo video ciao signori